Le barriere architettoniche Le priorità politiche con cui noi utilizziamo quei soldi? Perché non stabiliamo una percentuale rispetto all'utilizzo di certe somme che noi scriviamo in bilancio? Abbiamo 100? Se stabiliamo per le barriere architettoniche 20 vuol dire 20% e allora a prescindere da quanto entra in percentuale utilizziamo quei soldi per ciò che li abbiamo destinati Non che chi prima arriva prima li prende e gli altri restano senza Questa è una cosa che andrà fatta E andrà fatta e io verificherò se nel regolamento di contabilità questa cosa è determinata oppure no Altrimenti bisognerà in qualche modo metterla perché non mi risulta che ci siano delle priorità concordate, stabilite Mi risulta piuttosto che prima arriva il forte di turno e prima utilizza quelle somme Grazie Grazie